amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo buongiorno un calcio a tutti e che buongiorno sono le sette di mattina sentite gli uccelletti che si sono svegliati oggi ho gli operai a casa quindi devo fare presto col buongiorno un calcio e raccontarvi quello che è stato ieri roma venezia roma venezia è stata una partita orribile in sintesi della roma una partita dove senza di bala come al solito la roma ha fatto fatica a fare un gioco come dire bello come magari ci ha fatto vedere nei primi tempi con bilbao e genoa in tutta in tutta la partita quasi tutta la partita con l'udinese però la roma alla fine è fortunata trova due episodi riesce a vincere immeritatamente una partita che si era messa male perché il venezia ha giocato bene è andato in vantaggio a fine primo tempo ma poteva andare in vantaggio prima realizza anche il secondo nella ripresa ma per fortuna è fuori gioco perché altrimenti lì ragazzi la partita sarebbe sarebbe veramente terminata lì insomma di buono c'è solo i tre punti lo dicevo ieri ieri contavano solo i tre punti i tre punti sono arrivati quindi quindi da tifoso vedico va bene così però logicamente sempre da tifoso sono preoccupato perché vedo che la squadra non decolla ieri segna cristante fischiata anche ieri perché esce con e invece di lui poi poi il destino dà ragione a iuri ceno che lo lascia in campo perché lui trova il tiro da fuori seppur con la deviazione e trova il pareggio al settanta quattresimo neanche dieci minuti dopo arriva questa inzuccata di bisilli sul cross de paretes che nel frattempo era entrato anche lui credo al posto dei pellegrini infischiato se non ricordo male e la roma insomma riesce a portare a casa sti tre punti poi c'è sta qualche altro rischio nel finale che per fortuna c'è vita svilare che come al solito ragazzi si rivela un grande portiere quindi su quello proprio non possiamo darci colpe la società ha scelto bene De Rossi anche ha scelto bene l'anno scorso svilare quindi quindi bene bene così per quanto riguarda il portiere per tutto il resto ragazzi serve tempo serve tempo ora arriva l'elsborg arriva ci andiamo noi svezia e ovviamente una squadra una squadra debole rispetto rispetto a noi però come abbiamo visto non vuol dire nulla non vuol dire nulla perché bisogna bisogna veramente impegnarsi in tutte le partite ragazzi non esiste più non esistono più squadre materasso se non mi caricasi ma comunque sia serve la concentrazione serve la qualità non si può non si può improvvisare non si può più improvvisare quindi giudizio sulla partita di ieri secondo me una roma insufficiente una roma ancora una squadra incompleta lo sappiamo tutti ma insomma difficilmente difficilmente ci sono squadre complete a meno che non andiamo a vedere le squadre poi che vincono lo scudetto a proposito scudetto ieri il Napoli vince come era pronosticabile col Monza Monza che ora logicamente domenica avrà il vento avvelenato perché incomincia aver bisogno già di punti anche se ieri era solo la sesta giornata domenica sarà la settima poi sarà la sosta insomma il Monza vorrà fare qualcosa quindi per la Roma sarà molto difficile soprattutto per quello che abbiamo visto ieri in campo andrà a Monza e conquista i tre punti logicamente la Roma ci deve provare ci arriverà stanca perché andrà in Svezia tornerà presumibilmente la mattina del venerdì quindi sarà poche ore a Roma poi si dovrà rimbarcare per Monza perché domenica le sei giochiamo insomma sappiamo no qual è qual è la difficoltà in campionato nella stagione per la Roma quando quando fa le coppe quindi per fortuna da pericchi anni a questa parte bisogna avere i ricambi la Roma qualcuno c'è là qualcun altro non c'è là c'è un po' è un po' corta ad esempio sulla fascia destra dove ieri Zalewski ad esempio poteva essere una soluzione ma Selic ha fatto un'ottima partita poi addirittura si è spostato ha spostato Juric in una fase di gara l'ha spostato a fare il centrale e ha anche risposto benissimo a mio avviso quindi dicevo la Roma in alcuni reparti è corta e quindi anche fare le rotazioni diventa diventa un po' complicato diventa un po' complicato perché logicamente la qualità poi mentre intanto salutiamo l'amico Tito che ne approfitta e si fa le sue passeggiatine e diventa un pochino complicato fai cambi fai cambi far turnover se non determinate posizioni ad esempio al centrocampo secondo me quest'anno abbiamo molte soluzioni parete scristante conè Pisilli e Baldanzi che può anche rivestire il ruolo di di mezzala l'ha fatto molto bene e Baldanzi a me sta piacendo molto anche ieri anche ieri insomma degli ottimi spunti sull'è un pochino meglio ma sempre inconcludente possiamo dire ancora e sto ragazzo c'ha bisogno magari di un golletto per come dire per aggiungere un po' di tranquillità un po' di fiducia in se stesso a mio avviso e Dobby che ieri anche insufficiente ma l'abbiamo detto se non c'ha nessuno vicino comincia a fare fatica di balaglio e gioca vicino sull'è invece si allargava molto era molto distante pellegrini anche non ha le caratteristiche di Paolo quindi ieri Dobby che alla fine ci rimette perché rigioca nuovamente da solo contro tutto il reparto difensivo che anche se non è il reparto difensivo dell'Inter comunque lo mette lo mette in difficoltà perché da solo a fa sportellate con due o tre difensori a seconda te e no delle situazioni logicamente lo limita molto lo limita molto non ha grosse occasioni quindi pure ieri un passo un passo indietro per per Dobby per quanto riguarda gli altri insomma ho detto bene Svilar bene anche Indica nel finale entra Ermoso ci aspettavamo tutti che potesse essere ieri l'occasione di Mats Hummels invece è saltato anche ieri è saltato anche ieri il suo esordio in maglia giallorossa ora vediamo se a questo punto l'occasione per lui possa essere proprio la partita di giovedì in Svezia dove il livello dell'avversario insomma abbastanza abbordabile anche se in trasferta magari potrebbe essere l'occasione per vedere riposare qualcuno Mancini ad esempio ieri è uscito non ce la faceva più aveva anche un problema se non sbaglio sul finale del primo tempo e quindi l'ha sostituito Juric vediamo insomma se Matt Hummels ripeto riuscirà a trovare qualche minuto con la maglia della tona perché sinceramente adesso è più di un mese che è arrivato no più di un mese no quasi un mese insomma cominciò a preoccuparmi sull'integrità fisica anche se ieri l'ho visto dallo stadio nell'intervallo scaldarsi con gli altri giocatori insomma mi è sembrato mi è sembrato uno molto dentro molto dentro a livello fisico quindi spero che si possa insomma che si possa vedere giovedì saliamo a 9 punti questo è l'importante certo ieri perdere sarebbe stata una mazzata enorme per il morale dei tifosi la sud ancora in sciopero per un quarto d'ora in quarto d'ora seduti senza striscioni senza cori e poi al quarto d'ora si vede che il sud si anima proprio si alzano tutti in piedi mettono i striscioni e un po' decoriandoli tipo dei giornali dei giornali tagliati carta bianca che comunque del giorno fanno un bel effetto la Roma ieri tornava a giocare del giorno penso dopo la partita col monza tenete un anno fa che vincemmo col gol del sharawi all'ultimo era tantissimo che non vedevamo tutto quel sole all'olimpico ieri veramente una bella giornata anche calda ne sa qualcosa il mio amico gianfranco che è stato un tevere ed era completamente nero a fine partita è una giornata calda nord insomma si sta un pochino meglio perché c'è l'ombra però era una bella giornata insomma mancava solo la vittoria ieri pomeriggio sinceramente ragazzi mancava solo la vittoria quindi è andata è andata bene così dicevo perdere sarebbe stato un dramma per fortuna arrivata a sta vittoria che un po' dei fantasmi cacciaviamo i problemi rimangono però sono anche segnali buoni sono anche segnali buoni perché quando vinci facendo veramente schifo come ieri significa che comunque c'è le qualità dei giocatori c'è un po di tigna che magari da trasmesso pure all'allenatore che io potremmo di quello che te pare ma quello che ci pare cioè io potremmo di quello che ci pare ma alla fine la tigna è un allenatore che la tigna ce l'ha e come c'aveva pure daniele c'aveva soprattutto un certo giosè murigno la cosa che continua a notare è la mancanza completa l'entusiasmo da parte del pubblico ma a me ci metto anch'io ci hanno ci hanno un po' ammazzato con questo cambio a livello emotivo dei rossi iuric ci sta rimettendo iuric tantissimo logicamente e forse un pochino pure i giocatori che anche ieri a fine partita nonostante questa rimonta che magari sarebbe stata accolta con grandi applausi no ole eccetera eccetera da curva sud da tutto lo stadio viene fischiata anche ieri qualcosa questo giocattolo si è rotto ma la responsabilità non va data a noi tifosi bensì alla proprietà che insomma dovrebbe ragionare un pochino di più sulle decisioni che prende perché è vero so io il proprietario e decido io ma bisogna anche valutare i pro e i contro della decisione perché altrimenti se diventa se diventa insomma il restyling della gestione del povero zamparini che insomma si comportava così anni e anni fa quindi ragazzi bene così bene così tre punti e male così per quanto riguarda il gioco per esso aspettiamo aspettiamo tempi tempi migliori vi abbraccio vi saluto a buon inizio settimana e sempre forse tengo un po' inizio settimana e sempre forse